Eccola lì, principessa. Il tuo futuro ti aspetta. Quella è Diulok. Sì, lo so. Shrek crede che per Lord Farquaad sia una compensazione. Ossia, credo io, significa che ha un... Beh, io... sarà meglio che ci muoviamo. Certo. Ma, Shrek, sono... preoccupata per Ciuchino. Cosa? Insomma, guardalo. Non ha un bell'aspetto. Ma di che parli? Sto a una meraviglia. Sì, è quello che uno dice sempre. E poi, poi, è un tratto e sulla schiena. Morto. Sai che hai ragione? Hai una faccia spaventosa. Ti vuoi sedere? Senti, ti preparo un bel tè. Beh, non volevo dire niente, ma... Ho una fitta al collo e quando giro la testa così, guardate... Au! Visto! Chi ha fame? Rimedio la cena? Prendo la legna per il fuoco. Ehi, dove vai? Oh, accidenti! Le dita non me le sento più! Io le dita non ce le ho! Ho bisogno di coccole. Che buono! Delizioso! Ottimo! Che cos'è? Topo di erbacce. Fatto al girarrosto. Non mi dire! Beh, è delizioso. Sono ottimi anche nello stufato. Ora, non per vantarmi, ma mi viene benissimo. Come lo faccio io. Penso che mangerò diversamente domani sera. Magari puoi venire a trovarmi alla palude qualche volta. Cucinerò ogni genere di cose per te. Zuppa di rospo di palude, occhio di pesce alla tartara, a tuo piacere. Ci terrei tanto. Principessa. Sì? Shrek? Io mi domandavo se tu... Se tu mangi anche quello. Però non è romantico? Guardate là che tramonto. Tramonto? Oh no! Voglio dire, è tardi, è molto tardi. Cosa? Alto là! Ora capisco qual è la questione. Hai paura del buio, non è vero? Sì! Sì, è così. Sono terrorizzata. Io, io... Meglio che vada dentro. Ma non ci pensate, principessa. Anch'io avevo paura del buio. Finché... Ehi, no, un momento. Ho ancora paura del buio. Buonanotte. 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 Oh, ora capisco veramente qual è la questione. Oh, ma di che stai parlando? Ehi, non ci provare. Bello, sono un animale, ho degli istinti e so che voi due giocate alla calamita. Lo sento. Sei pazzo. Io la sto solo riportando da Farquaad. Oh, andiamo, Shrek. Svegliati, annusa i ferormoni. Va dentro e dille cosa provi. Io... Non c'è niente da dire. E poi, anche se le dicessi che... Beh, insomma... Non dico che provo qualcosa. Perché non è vero. Lei è una principessa e io sono... Un orco? Già. Un orco. Ma dove vai? A prendere... dell'altra legna. Un orco. Un orco. Un orco. Un orco. Grazie a tutti.